A parte che posso spostare la telecamera durante il caricamento, che figata. Aiuto, help. Ed eccoci di ritorno. La madonna, che succede? Tutto a posto qui? Porca troia. Torna indietro tu. Aia, maledetto. Preso. Colpo di grazia? No. Ah, dannazione. Ui. Calma un attimo tu. Colpo di grazia. E ci curiamo. Cosa cazzo è sto coso? E' un emissario dell'inferno questo. Di Omede. Alla. 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 Certo che comunque L'attacco aumentato Si sente un sacco Male 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 Dolore metafisico Metapino proprio Colpo di grazia Santo cielo Quel colpo lì a spirale Era terribile Quel colpo spirale era Veramente distruttivo Avrò preso un voto di merda Vabbè B pensavo peggio Eh abbiamo salvato sta gente Ok ma fammi pulire un attimo la zona Va bene Adesso arrivo Ehi tutto bene qui? Ah mi danno degli oggetti Fantastico Quindi se li salvi Ti danno anche dei piccoli oggetti Che così Metti caso che ti devi curare Almeno è qualcosa in più Grazie Però aspetta Ci sono altri segnalini rossi Vuol dire che Altra gente ha bisogno di aiuto Vero? Madonna mia quanta roba Cremisi qua Controlla il portale E là ci sono altri portali in zona Che è successo? Spacco la faccia a tutti adesso Spacco la faccia a tutti adesso Colpo di grazia Donna mia mi spacco la faccia a tutti ora Vieni qua Ah dannazioni Io non ci passo lì Devi venire qua Colpo di grazia Bisogna fare attenzione A quei cosi lì Che esplodono Fanno veramente male Altri ancora? Madonna Porca troia Di nuovo lui Ok Prima ci occupiamo Dei lupetti E poi ci occupiamo Del grande samurai Uuuh E là Fermo Ecco fatto Colpo di grazia Così mi curo Colpo di grazia Così lo distruggiamo Aspetta Ehi ehi Calmati tu Iris Iris Start up Iris Shut down Ti spacchiamo in due Colpo di grazia Ah dannazione Non sono riuscito A farglielo E' morto Prima che riuscissi A farlo Ok ci sono anche Dei portali Da chiudere Adesso Una S plus Benissimo Questo aumenterà Questo aumenterà Il voto finale Di tutta quanta La zona Allora Eccone un altro C'è un altro portale Allora Aspetta che Ecco fatto Ma c'è un bagno Qua ma ti prego No ti prego Devo prendere la carta igienica Anche da sto bagno No ti prego Per la missione Del cesso Foglie secche No ti prego C'hanno le foglie secche Come cesso Davvero Allora Calmi tutti Dobbiamo Prima di tutto Andare a chiudere Tutti i portali Che ci sono Ecco Ce n'è un altro Anche là sopra Certo Uno potrebbe Rasciare E andare direttamente Subito Tipo da Akira Però In teoria Chiudendo tutti Questi portali Ci prendiamo Un bel po' Di bonus extra Ecco fatto Andiamo nel portale Eccoci qua Altra boss Quelli sono i cristalli Ok Vieni qua tu Ecco fatto Che voi non siete pericolosi Però Aumentate l'attacco degli altri Non è un bene per me Se tu aumenti L'attacco dei tuoi companion Non è un bene per me Per niente Ne arrivano altri Ovviamente Porca troia Oh calma Ah danazione Non l'ho fatto in tempo Ecco fatto Sti omini qua piccolini Sono un problema Da risolvere al più presto Aspetta che prendo il codice Velocità Ligio Più 5% Se gli vai alla schiena Poi I danni Ne prendono di più Ecco fatto Colpo di grazia E ci curiamo Finita questa zona 70% Ne arrivano altri Gorillone Il mio peggior nemico Finora Colpo di grazia Su sti stronzetti Piccoli Tagliamo la corda Colpo di grazia Perfetto Ci manca solo Che anche il gorillone Si potenzia Più di quello che non è Dai è già metà vita Dovremmo Riuscire a farcela Aia Il bestione qua È proprio una merda Colpo di grazia Ah dannazione Volevo fargli il colpone Di grazia Oh Dammi Oh dannazione C'era un oggetto giallo Lì Volevo prenderlo Una S plus Ti giuro che Probabilmente per le tempistiche Probabilmente per il tempo Che ci mettiamo Che ci danno S plus Ok Ora possiamo proseguire Possiamo tornare Dall'altro lato Però prima abbiamo Un altro portale Da questa parte Da chiudere Quello cos'è? Cos'è quella luce? Comunque Tiriamo giù la scala Quello è un oggetto Aspetta Ok È una ricarica Niente di eccezionale Ma io devo proseguire Da questa parte Prima Come faccio a scendere? Ah qua dove abbiamo Catturato il tizio Ok Perfetto Lui è là Tutti gli umani Si sono trasformati In esseri brutti E cattivi Colpo di grazie Così ci furiamo Perfetto È incredibile Pensare che prima Sta gente Era Gente Appunto Vediamo qua Che cosa c'è C'è un altro oggetto Un codice materiale Perfetto Aspetta che passo Di sotto Eccomi qua E ora Si scende Lì c'è un portale Dobbiamo andarlo a chiudere Sbrigati Sbrigati Non riesco Ecco fatto Distrutto tutto? Qua mi serve Il Quello con l'ascia Prendiamo tutto Il materiale Cremisi Che troviamo Qua Si trasforma? No eh Madonna mia Sto capitolo È passato da Un capitolo Normalissimo A Distruttivo In un attimo Io voglio andare Di là però C'è un altro portale Rosso Devo andare Di là Dannazione E qua c'è anche un oggetto Come ci arrivo io? Ah Non posso arrivare Da questo portale Perché c'è bisogno Del legion Quello col Col guantone Cazzo Avevo rifatto il giro Perché ho pensato Vuoi vedere come ho mancato Un pezzo? No no Proprio non posso farlo Per ora E basta Va bene Allora proseguiamo ora Wey Calmi Cioè calmi Fate bene a scappare Anzi Questo si sta per trasformare No strano Eccomi Preso Oh Akira Smettia di bruciare Polpo di grazia Oddio mio Vi spacco tutti Oggi Colpo di Ah dannazione Per poco Aiuto il fuoco Aiuto il fuoco Allora È incredibile Che sta gente Poco fa La stavamo Proteggendo Adesso è diventata Degli abomini Che stiamo cercando Di distruggere Ecco fatto Ne arrivano altri Ovviamente Perché Perché me ne sorprendo Oh colpo di grazia Perché così mi curo Bravissimo E' là Ma la cura Cura un po' Dio eh Il fuoco dura Un sacco Invece Non lo vedo Vieni qua Colpo di grazia Direttamente all'angolino Caso chiuso Una B Poteva essere meglio Cosa chiuso 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 Autore dei sorrisi